Il 16 e 17 luglio ci sarà il primo torno di padel in contemporanea in tutta Italia. Per iscriversi basta scaricare l'app Italy Padel Tour Bombier. Sale l'arena Lina al country sport di Avellino, arriva il Bobo Padel Tour, o per meglio dire l'Italy Padel Tour. Nelle giornate di sabato e di domenica il centro sportivo di Picarelli diventa lo scenario di una 48 ore di puro spettacolo, spettacolo, divertimento, smashate, spadellate e momenti goliardici. L'Italy Padel Tour è un evento nazionale che si disputa in contemporanea in tutta Italia. La kermesse organizzata da Christian Vieri, che dopo il calcio ha trovato nel padel una vera e propria filosofia di vita. L'ex bomber di Inter Lazio della Nazionale, grazie allo sport delle padelle, ha dato vita ad una nuova moda. La kermesse di Avellino ha riscosso un grande successo, pronta a sfidarsi sui campi del country, circa 16 coppie, che saranno suddivise in tre categorie, principianti, intermedi ed avanzati. E grazie all'app Italy Padel Tour, inoltre, i partecipanti sono in grado, tramite il test di iscrizione, di conoscere il loro livello di gioco, il tutto per garantire un maggiore equilibrio al torneo. Ad ogni iscritto saranno regalati diversi gadget ufficiali di Bobovieri, come ad esempio la t-shirt ufficiale del torneo, e in più saranno concesse alle coppie tre birre del bomber. Altro dettaglio da non sottovalutare è che durante le partite ci saranno svariati momenti social e che i partecipanti potranno vincere durante la manifestazione una cena con Bobovieri o una gara di padre insieme a lui. Chi si aggiudica invece il torneo per le tre categorie accederà alla fase regionale e poi ci sarà Cuglia Nazionale, con entrambe le sedi ancora da stabilire.